Un'altra domenica con le auto ferme nel pieno centro del comune di Ischia. L'amministrazione comunale ci tiene molto a verificare che cosa si può fare per la sostenibilità e per una viabilità che possa essere non assillante così com'è nelle ore di punta. Vice sindaco di Vaia, siete soddisfatti anche di quest'altro risultato? Sì, siamo soddisfatti. Il problema del traffico a Ischia non è soltanto quello delle ore di punta. Quello che ci preoccupa maggiormente è soprattutto quello estivo, quando abbiamo la maggior affluenza turistica sul nostro territorio. Siamo persuasi del fatto che è il problema numero uno, sicuramente uno dei più importanti attanagli al nostro territorio che sta rischiando di perdere la vocazione di isola votata al turismo. Per cui ci stiamo sforzando di mettere in campo quelle iniziative utili a mitigare il problema del traffico veicolare. Le giornate ecologiche, la domenica ecologica, passeggiamo Ischia, si inserisce un discorso più ampio di politiche che stiamo ponendo in essere. Politiche che vanno dalla riqualificazione del parcheggio ex jolly, dalla politica strategica che riguarda le schiattine alle strisce blu che sta servendo questo tipo di politica a disincentivare l'autista a venire nel centro. La navetta gratuita Zizi e la mini Zizi è la seconda linea che a presto partirà per servire anche la zona porto e poi naturalmente risalirà per via Morgioni. Lo stesso discorso vale per la riorganizzazione del traffico in zona portuale e quindi anche per quanto attiene alla razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico su gomma. Mi riferisco in particolare a uno dei taxi ed NCC. Insomma, tutta una serie di iniziative tese proprio ad affrontare il problema. Siamo lieti del fatto che tutta la comunità ischitana ci sia seguendo da questo punto di vista naturalmente con differenti idee, proposte e contributi ma comunque accolgo con piacere l'evidenza che finalmente è giunta alla nostra attenzione questo problema atavico che, dobbiamo dire, era in continuo peggioramento.